ciao mi cari ben ritrovate sul mio canale allora quest'oggi come vedete qui di fronte a voi avete questa bellissima base in ferro nera perché vi faccio questo breve video perché con questa base si possono realizzare veramente tantissime idee tantissimi lavori vi lascerò il link la potrete trovare sul mio sito miso di me l'avete chiesto in tante quindi oggi faccio questo breve video e poi vi do alcune indicazioni e faremo tanti bei lavori carini insieme allora vi do le misure guardate dalla punta fino alla parte fino alla base sono 23 centimetri di lunghezza o di altezza la base misura 10 centimetri vediamo se riesco a farvelo vedere ecco qui vedete allora è molto bella e molto carina può essere rivestita anche o con il tulle scusate mi è sfuggito mi è caduto dalle mani con un tulle questo misura un centimetro e mezzo oppure con quel classico non so in realtà come si chiama questo tipo di carta crespa per rivestire gli steli dei fiori quando andiamo a fare delle creazioni dei fiori allora io adesso vi ho fatto vedere la base faremo dei tutorial con dei fiori artificiali con dei petali sintetici da poterli poi applicare potete anche applicare su questo bellissimo ferro su questa bellissima base delle sfere guardate questa sfera misura 12 cm di larghezza vedete la potete mettere all'interno dei fiorellini guardate io ve lo faccio vedere uno che ho fatto una piccola prova vedete l'ho usato come decorazione su una base in plastica e potrete poi questo è un piccolo esempio e poi logicamente ne faremo vi faccio vedere anche poi come fare questi fiorellini e potete trovare il materiale occorrente sempre sul mio sito missobi potete mettere all'interno dei fiorellini su questa parte appoggiare mettere un po di colla a caldo e mettere una foto chiuderla e potete fare un bellissimo regalo per qualsiasi occasione tipo comunione tipo anniversario festa della mamma e quant'altro potete riporre la sfera guardate quanto è grande potete riporre la sfera sulla base e creare così anche una bomboniera per qualsiasi tipo di occasione ripeto c'è anche la base più piccola che misura faccio vedere subito 8 cm ma vi faccio notare una cosina su questa base più piccola la parte del foro è leggermente più stretta vedete quindi faccio leggermente fatica ad inserirla quindi cosa dovrete fare con un pezzo di ferro lo andate a riscaldare e andate ad allargare una parte per volta altrimenti si incolla la parte del foro vi faccio vedere un attimino io qui mi sono procurato un pezzo di filo di alluminio quindi una volta riscaldata la passerete all'interno e farete questo movimento circolare per allargare il foro ok mi cari ho presentato questo piccolo questa piccola base e poi ripeto faremo insieme tantissimi bei lavori mi raccomando pollice in su iscrivetevi seguitemi attivate la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video mi raccomando la base la troverete sul mio sito miss hobby e vi faccio vedere anche come creare questi bellissimi fiorellini se non avete il tempo di crearli ad uncinetto sono delle alternative veramente molto carina io questa l'ho realizzata mettendo una pollina in polisterolo all'interno per fare una margherita un fiore diverso dalla rosa ma ci sono anche delle basi con punta tipo queste qui guardate che sono a punta per poter realizzare poi le roselline le potete spennellare con del trucco con dello smalto e renderlo colorato a metterci all'interno qualcosa per renderlo più carino insomma li potete sbizzarrire allora i miei cari detto questo piccoli piccolissimo video tutorial di introduzione e ci rivediamo prestissimo